In quanto a produzione realizzativa, Hidden Agenda è forse il titolo di punta della proposta PlayStation PlayLink, il servizio di multiplayer locale di Sony utilizzabile con apposita app gratuita. A dispetto dei temi adulti e della sua estetica scura e cinematografica, si tratta di un party game che mette in scena un cine-thriller con momenti interattivi decisionali da parte di un massimo di 6 giocatori in totale. Becky Mertney è l'agente a capo del caso di omicidio ad opera del manipolatore, un serial killer condannato 5 anni prima e adesso ha 48 ore della sua esecuzione nel braccio della morte. Spetta prevalentemente a lei chiudere una storia che da troppo tempo chiede di essere risolta. In qualità di esperienza multiplayer, Hidden Agenda presenta alcune regole di gioco base, alcune legate alla tempestività delle reazioni ad esempio. Parliamo di usare il puntatore non solo per alcuni quick time events, ma anche per trovare un indizio o colpire un bersaglio prima che scada il timer. Il più veloce fra i giocatori riceve un punto decisione che permette di imporre, quando utilizzato, una decisione sulla scelta democratica degli altri. Giunti alle fasi cruciali poi, i giocatori sono obbligati ad eleggere, attribuendo gli meriti di fiducia e affidabilità, uno fra loro che possa farsi carico della responsabilità della scelta. Le fasi di combattimento si comportano lo stesso modo, anche se in questo caso per colpire il bersaglio prima che il timer scada bisogna che si realizzi la maggioranza. Per finire, il registro consultabile sugli schermi dei propri device è funzionale al reperimento di informazioni sulla trama e sui personaggi. La storia di Hidden Agenda affianca inoltre la competizione alla cooperazione. È possibile ad esempio che su loro device alcuni giocatori ricevano incarichi segreti, che richiedono la riuscita di alcune azioni dietro corrispettivo di punti. Si tratta di un tentativo interessante di ampliare lo spessore ludico nella ristretta dimensione interattiva di gioco, anche se risulta abbastanza distraente rispetto allo svolgimento degli eventi. Parlando proprio degli eventi di Hidden Agenda, l'esperienza messa su da Supermassive Games non si discosta dalle opere che presentano scelte multiple per diversificare la trama. L'esigenza di ramificare la narrazione, però, il plot della storia, incide sulla sua plausibilità. A livello di sceneggiatura, l'esigenza di dover condurre diverse scelte verso differenti finali, determina forse alcune forzature nella veridicità psicologica di quanto accade. Senza entrare nel dettaglio, è possibile ravvisare alcune incoerenze fra ciò che presumibilmente i personaggi dovrebbero comprendere stando ai fatti e l'esito che conclude le possibili storie. Del resto, la proposta del titolo Playlink è quella di intrattenere, non di risultare veritiero o memorabile nei contesti in cui si muove la sua storia, e per certi versi il progetto risulta vincente in tal senso. Nella sua veste multiplayer, Hidden Agenda rappresenta l'estremizzazione democratica di due aspetti mediali. La prima è riferibile ai DVD e libri game, che basandosi su una piattaforma a controllo unico, il lettore DVD e i libri, prevede un solo agente giocatore in singolo col suo libro o telecomando. L'altra estremizzazione è riferibile alle produzioni apparentemente similari come quelle di Quantic Dream. Questo perché, anche se giocato in singolo, il Dual Show 4 in Hidden Agenda viene totalmente abbandonato, relegandolo ad alcune funzioni di base. Per intenderci, non vi è alcun controllo dei personaggi, nell'opera di Supermassive Games. Parlando di videogiochi, si tratta di una involuzione in termini di performance interattiva, ma al contempo una evoluzione dell'anima partecipativa, se si vuole considerare in modo coautoriale la fruizione di testi determinati nel loro svolgimento. Hidden Agenda è una proposta per certi versi unica nel panorama dei videogiochi, che potrebbe dare adito ad esperienze simili in altre future iterazioni. Cavolo! Devi avere un bel po' di topi per casa. Ahah. L'utilizzo che fa dell'Udus interattivo è dannatamente interessante, aprendo a nuovi scenari le possibili modalità di esecuzione e fruizione dei testi nei media digitali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti